Non male che Grimbo c'è! Lui anche sembra abbia fatto trapelare un messaggio dal suo gruppo Telegram in cui dice a finire eccetera secondo me è un po' una manovra potenzialmente poi non lo so magari è vero per tornare che ci sta tra l'altro a cavalcarla per carità di Dio comunque non ne parlerò perché non ce ne frega un cazzo però questo è forse il punto più basso ma potremmo anche dire più alto per quanto riguarda la pericolosità di uno stream cioè veramente categoria GTA sì è la condotta più problematica che uno streamer Earl abbastanza famoso ha adottato negli ultimi anni e la cosa divertente è che ogni volta spostiamo l'asticella questa cosa la vecchia prediction dove arriveremo no vabbè allora live Earl un po' problematica qualche rissa tassista così quello così green pass inseguito dalla polizia e rimane live proprio io veramente quando grazie mille quando insomma mi sono messo lì a leggere il titolo ho detto vabbè sarà un clickbait poi ho visto solo qualche minuto per non rovinarmi la reaction ho detto non è possibile